Pronto, Gio? Falla più da... Io ho paura Così Io ho paura Io ho paura Ah, bene, bene Ascolta, ti ricordi quella cosa che volevamo fare al buio? Ti ricordi? Non metto a fuoco Maledetto Allora, il video si chiamerà una notte al cimitero Eccoci qua Ovviamente il cancello è chiuso Cosa facciamo, Jack? No Ah, bene, bene Ascolta, ti ricordi quella cosa che volevamo fare? Ok, ok Dio Dai Ma dai Ma dai E se fai così Non adesso non devi chiudire parto Ma perché hai la cicca? Uno Due Tre Quattro E vediamo Un po' più Corri Non mi chiede il botone No E se fai così Non mi chiede il botone Ma perchè? Ma perchè? No, non ho sentito. Non l'ho puntato giusto, aspetta. No, ma devi riprendere. Non devi metterlo. Non devi metterlo. Bene. 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 Entriamo? Sì. Da un muretto qui... Ma va... Fai! Vai lavate. Se mi pare qualcosa al giro. Eeeh! 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 Conscia non ti può interessare. Non mi può interessare. Oh! 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 Perchè? 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 Allora... Sti video ci chiameranno notte al cimitero. No! 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 Ah! Bene, bene! Ascolta! Ti ricordi quella cosa che vogliamo fare... Cos'è? Hai paura? Cosa stava chiamando l'altro? Cosa stava chiamando l'altro? Cos'è? Hai paura? Di cosa stavate parlando Giorgio? Te lo presto diciamo! Non c'è, non c'è... Cos'è? Hai paura? Cosè! Che cazzo ridi! Che cazzo vuoi! Cos'è? Cos'è? ed eccoci qua ovviamente il cancello è chiuso che cosa facciamolo jack bene bene ascolta ti ricordi quella cosa che volevamo fare il buio porca si te l'avevo detto gente non ti poteva interessare si te l'avevo detto gente non ti poteva interessare mosca allora allora il video si chiamerà una notte al cimitero perché vado allora vabbè ok vabbè 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 ok vabbè vedi mi ho distrutto il ragazzi niente di che no basta no basta basta ma lei ci metteva a gustarlo in bagnetta grazie a tutti